Sì, stiamo lavorando molto, il gruppo risponde a voglia e speriamo di far bene, sono contento e sono motivato per la nuova esperienza, l'esperienza conta ma anche la gioventù, i ragazzi che siano giovani o vecchi l'importante è che abbiano voglia di giocare e di stare assieme e di creare qualcosa di importante, tutti quanti, dall'entourage all'ultimo ragazzo in rosa. E' partita dalle persone con le quali ho lasciato un buon ricordo, ci siamo sentiti durante l'anno e siamo arrivati alla decisione di ritornare tante volte ritornare dove si è stati può risultare difficile perché comunque ci si rimette in discussione però ritornare vuol dire che comunque qualcosa di buono si è fatto e si è lasciato, sì, 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 dai. Poi ritrovo tanti giocatori che ho già allenato e mi fa piacere ritrovarli in quel Dio Giono. Sì, sicuramente si sono rinforzati molto e penso che faranno un campionato da protagonisti in bocca al lupo all'Ardo Lazzate. Le altre penso siano le solite, il Ciserano e penso anche il Sondrio che è una squadra organizzata con giocatori d'esperienza nei punti chiave. Poi c'è la Trevigliese che ho visto che ha un organico molto determinato e con gente tosta, una squadra quadrata, il campionato soprattutto il Giro nei B di eccellenza, un campionato dove non puoi mai vivere momenti di tranquillità, devi stare sempre sul pezzo perché è un attimo essere risucchiati. Noi vorremmo fare un campionato cercando di stare insomma i più tranquilli possibile. Con tanto entusiasmo e in una categoria che ritrovo dopo un anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti l'anno scorso per cui ancora tanta voglia e tanto entusiasmo anche per questa stagione. Il gruppo è sempre buono, ci sono sempre più ragazzi giovani, fortunatamente c'è ancora Tomaino che gioca che è il più vecchio di tutti, ma io mi sto avvicinando a essere il più vecchio, ma i ragazzi sono molto disponibili e speriamo di fare bene. Mister Vianello è una persona che ha tantissima voglia, ha preparato, con idee molto chiare e speriamo di riuscire a seguirle e fare quello che vorrà lui. L'obiettivo dovete chiedere alla società, io in testa piacerebbe fare come l'anno scorso, però vediamo, non ci poniamo dei limiti, cerchiamo di salvarci prima possibile e poi toglierci soddisfazioni. Togliere Tomaino dai primi 11 che è un po' appesantito, però no scherzo, sicuramente ci vuole un po' di esperienza mixata a tanti giovani che seguono le direttive dell'allenatore, sappiano bene che cosa devono fare, perché in questa categoria sono sicuramente loro quelli che possono dare quel qualcosa in più e noi vecchi dobbiamo cercare di dare il nostro apporto, ecco tutto qui. Sicuramente dei vecchi questa volta qua voglio essere buono, secondo me abbiamo la fortuna di avere lui e Corti che secondo me in questa categoria sono lusso, nel senso che non perché sono miei amici e compagni da anni, però una coppia così bisogna iniziare ad andare in altre categorie per avere un affiattamento così, Simone è un giocatore per noi fondamentale. Sì, secondo me è un bel girone, sicuramente il fatto che siano 16 e non 18 può essere un bene e un male, perché noi dobbiamo sempre prenderci conto che siamo una squadra neopromossa, a prescindere dagli obiettivi che ci saranno, che secondo me noi in questo momento non abbiamo, perché viviamo un po' la giornata, però secondo me con 18 squadre molto probabilmente avrai più possibilità e più tempo di metterti comunque in categoria e avere un po' di più gli obiettivi un po' più chiari man mano che il tempo passava, con 16 squadre però è un bel girone, diciamo che stimolante, molto stimolante e io mi auguro di sì, diciamo che è inutile nascondersi, l'età inizia ad essere importante, bisogna allenarsi sempre meglio, mi aiuta il fatto che l'ambiente, la società, il gruppo mi dà sicuramente una mano e il fatto sicuramente di aver avuto nuove motivazioni e il fatto che comunque la Gabinese Oggiorno ha voluto dare anche per quest'anno la dimostrazione che ha un progetto a lunga durata, diciamo che mi fa piacere che abbia puntato ancora su di me e dunque vuol dire che posso dare ancora una mano, spero di poter dare una mano come ho dato anche l'anno scorso, sicuramente non allenare, spero che la famiglia Castagna mi dia da lavorare più avanti però ci penseremo con calma, mi godo ancora questo anno qua da giocatore, è passato qualche anno però il gruppo c'è, nel senso che lo satura, poi adesso spero, non voglio annunciare niente però se dovesse tornare, non dico il nome, il bomber che comunque in questo momento secondo me ci può mancare, diciamo che magari riproporlo è un po' difficile però con lui è possibile